Senza i portieri, calore falso e con un attacco dimezzato, Guglielmo Bonati si presenta allo stadio Angelini per provare a fermare la corsa delle Chieti che vuole portarsi a sua volta nell'anticipo a più 5 sull'Aquila in attesa della sfida del Gran Sasso d'Italia e di Luca Fabrizzi. La prima conclusione verso la porta difesa da Giuseppe Amoroso che risponde con un grande intervento in apertura prima dell'episodio che sblocca l'incontro con proteste annesse da parte del Delfino per un intervento irregolare di Fabrizzi a Gambatesa prima di penetrare all'interno dell'aria fermato l'ex Castelnuovo. Nessun dubbio per Di Monteodorisio che assegna il tiro dagli 11 metri si presenta ancora Manuel Spadafora dopo il gol dal dischetto a Lanciano ancora assegno 1-0 Chieti e Spadafora che sale a quattro reti personali in campionato ma più di un dubbio nel frangente prima del calcio di rigore per l'intervento di Luca Fabrizzi su Albanese. Quindi subito a caccia del raddoppio un Chieti determinato che deve rinunciare a filosa corticchia Berna e Galli la combinazione Spadafora Fabrizzi con quest'ultimo che fallisce una buona occasione ma Chieti che tenta ancora la via del 2-0 senza successo Delfino Flacco Porto che non demorde prova a farsi vedere in avanti. Prima del raddoppio del Chieti con Manfredo Pietrantonio uno sguardo verso il centro probabilmente nelle intenzioni un cross per l'esterno nero verde pallone che invece beffa imparabilmente amoroso il raddoppio del Chieti con il secondo gol in campionato per Pietrantonio risultato quasi al sicuro già nel primo tempo anche se il Delfino Flacco Porto ci prova ancora ad impensierire Matteo Forti. In chiusura di prima frazione altra chance per il Chieti pericoloso con Spadafora e Mariani ma può bastare così per quanto riguarda il primo tempo con Amoroso che salva la squadra di Bonati che nella ripresa deve però difendersi Fabrizzi. Vicino al gol con le immagini di Maria Carannante quindi entra Anasi Cramellà proprio in luogo di Fabrizzi e prova l'invenzione personale subito in partita il talento marocchino ottima gara anche per Tine Mori conclusione che si perde sul fondo per il numero 7 Biancazzurro. Quindi finale di gara con Rodia subentrato a Spadafora con insistenza a caccia del gol del 3 a 0 che però non arriva ma Chieti che ha la meglio sul Delfino si impone 2 a 0 buona prestazione da parte della squadra di Bonati ma Chieti che può sognare in attesa del big match di mercoledì sale a più 5 sull'Aquila il finale all'Angelini Chieti 2 Delfino 0. Allora Lucarelli si va a più 5 sull'Aquila quello che voleva chiaramente anche perché nel primo tempo avete segnato i due gol poi c'è stata la gestione nel corso del secondo tempo anche energie risparmiate in vista della partita con l'Aquila. Ma ormai è un canovaccio che noi abbiamo un po' in questo mini torneo l'idea di volendo concedere anche un po' il possesso palla però allo stesso tempo controllare la partita oggi l'abbiamo fatto un po' troppo secondo me perché pensavamo sicuramente a un certo punto vedevamo che la squadra comunque anche se aveva un minimo di possesso palla non riusciva a concretizzare. E lì ti vengono solo l'idea che devi andare a giocarti poi questa partita mercoledì e ci diciamo si può concedere umano da questo punto di vista. Mister ciò che le voglio chiedere è se ci può aggiornare un po' sulle condizioni dei tanti infortunati a partire da Filosa, Verna, Galli e lo stesso Corticchia. Io oggi avevo bisogno di una risposta di quelli che hanno giocato più che quelli che non giocano perché quelli che non giocano non credo che recupereranno per mercoledì quindi sicuramente non saranno della partita. Mentre quelli che hanno giocato oggi bene veramente bene a dimostrazione che c'è un gruppo forte c'è un gruppo che sapevamo di aver costruito in tutti i reparti in maniera adeguata a livello numerico a livello di qualità. Per me oggi la risposta più importante è stato questo ma io non avevo fiducia io vedo un po' di qualcuno preoccupazione io non avevo proprio nessun tipo di preoccupazione. La preoccupazione ce l'ho per mercoledì perché è giusto avere un po' di preoccupazione ma nulla di più per il resto noi siamo un gruppo forte una squadra forte e mercoledì ci giochiamo il campionato come giusto che sia perché mercoledì è la partita campionato dentro fuori. Con due risultati su tre a disposizione probabilmente. Non lo so questo però sicuramente è la partita che deciderà il campionato quindi dobbiamo andare con quest'idea senza nessun tipo di paura o timore andare con le nostre convinzioni con le nostre idee preparandola bene come starà facendo anche l'altra squadra sapendo che però è la partita campionato. Allora Bonatti è arrivata la sconfitta con il Chieti questo 1-2 nel primo tempo tra l'altro ci sono state anche diverse assenze sia da una parte che dall'altra voi però non avevate praticamente due attaccanti titolari. Sì sì ma chi ha giocato ha fatto la sua figura l'organico è numericamente valido per cui è una partita che abbiamo potuto giocare tranquillamente tant'è che avete visto che il secondo tempo è stata una buona partita. Il Chieti ha espresso tutto il suo potenziale il suo valore ha sbloccato sul rigore insomma dove forse c'è un fallo c'è una gamba tesa su albanese ma ripeto la superiorità del Chieti nei primi minuti è stata importante come siccome è stata quella dell'Aquila quindi la capacità di portarsi l'episodio del suo fuori fa parte della bravura e della forza di una squadra. Ecco al di là di questo mister ci sono cose positive che ha visto e cose negative su cui chiaramente dovrà sgridare i suoi ragazzi durante la settimana? Come tutte le partite qualcosa di buono e qualcosa di meno buono è stato fatto quello che è stato fatto in meno buono lo sappiamo già e lo analizzeremo diciamo domani perché i panni sporchi si lavano in casa. Quello che abbiamo fatto di buono è stato evidente a tutti nel senso che dopo un 2 a 0 così veloce si poteva perdere la testa si poteva prendere l'imbarcata invece la squadra ancora una volta ha avuto la capacità di rimanere in partita di attutire il colpo di portare il primo tempo senza ulteriori danni e di fare un secondo tempo bello dove il Chieti ovviamente un po' si sarà risparmiato sicuramente però l'abbiamo tenuta sempre viva la partita e forse meritavamo anche di fare gol nel secondo tempo.